Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi la mia wishlist di Natale. Oltre a fare due chiacchiere e tenerci compagnia, penso possa essere un'ottima occasione se siete alla ricerca di un po' di ispirazione per aggiungere cosa alla vostra lista desideri, se non sapete che cosa farvi regalare, anche se ne dubito però sia mai, o se siete alla ricerca di qualche idea per fare un regalo a una persona che magari può avere dei gusti simili ai miei. Prima di iniziare a spulciare nella mia lunga lista, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di gingerbread latte attraverso coffee, il link lo trovate in tutte le descrizioni video, così come trovate i miei link da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale va a sostenermi, quindi io vi ringrazio davvero di cuore. Partiamo con le cose di casa, perché quando si cresce o si invecchia, dipende dai punti di vista, la casa diventa un po' una priorità e quindi invece di farsi autoregali ci si compra cose per la casa. A me in particolare piacerebbe tanto rinfoltire il divano con un po' di cuscini. Ne avevo presi un paio non troppo tempo fa, però trovo che i cuscini siano particolarmente costosi, quindi io tutte le volte mi innamoro di un cuscino magari anche molto semplice, non un tessuto particolarmente pregiato, almeno che io sappia, costano sempre un botto. Quindi mi tiro sempre indietro dall'acquistare, però mi piacerebbe rinfoltirlo perché mi sembra un po' troppo semplice e sfoglio. Mi piacerebbero dei cuscini quadrati, magari anche di diverse dimensioni, con una texture particolare. Adesso che siamo in inverno magari qualcosa di morbido o pelucioso, ma anche semplice non guasta, anche perché il divano è comunque di un colore abbastanza neutro, è grigio scuro, quindi una punta di colore in più ci sta molto bene. Io tempo fa avevo aggiunto appunto un paio di cuscini color terracotta, che secondo me stanno un sacco bene. Così come un cuscino che avevo recuperato per la sedia. Mi sono accorta che adesso che ho un cuscino per la sedia, mi trovo scomoda sulle sedie senza cuscino, quindi mi piacerebbero anche dei cuscini da seduta da aggiungere appunto alle sedie di casa. Altra cosa totalmente random, che lo so è molto semplice e l'ho messa nel carrello diverse volte, ma non l'ho mai poi acquistato, non so per quale motivo, perché probabilmente avevo sempre un'urgenza diversa, non era mai la mia prima, cioè la mia priorità diciamo così. La carta da forno riutilizzabile. Ho visto un kit su Amazon, ma penso che si possa trovare anche in diversi negozi di articoli per la casa, fisici o online. Con questa carta da forno riutilizzabile di diverse dimensioni, adattabile non soltanto alle varie teglie da forno, alle tortiere, ma anche allo stampo per plum cake, eccetera eccetera. Mi piacerebbe ridurre il consumo di carta da forno, io spesso cerco quando è possibile di riutilizzare quello che ho o di non utilizzarlo nelle teglie, ad esempio nelle tortiere, però a volte non ne posso fare a meno, quindi secondo me potrebbe essere qualcosa di utile e non soltanto di pratico, ecco. Altra cosa per la casa, una candela profumata Yankee Candle, ma non una qualunque. In particolare la Freshly Topped Maple, spero di averlo scritto bene, è in sostanza una candela che io ho già sniffato in negozio, di cui mi sono letteralmente innamorata, che sa un po' di dolce, ricorda vagamente i biscotti, non a caso l'etichetta è la foto di un waffle con lo sciroppo d'acero, eccetera. È dolce ma non troppo, non è stocchevole ed è quel profumo di casa accogliente, di dolce natalizio ma non speziato, che wow, fa venire una fame. Passiamo ai libri fumetti, così, a caso. Non ne ho tanti in lista, ma quelli che ho sono belli corposi. Innanzitutto, un titolo che io ogni anno chiedo, ogni anno è in lista, ogni anno non mi arriva, che sia la volta buona magari quest'anno, chi lo sa, il cofanetto del poema del vento e degli alberi. È un cofanetto meraviglioso, se non sbaglio sono 10 o 12 volumi di questo manga famosissimo, infatti forse vi farà strano sapere che io ancora non ho letto l'opera forse più famosa di Keiko Takemiya. Dopo aver letto la sua autobiografia, sento proprio l'impellenza di leggere questo manga, anche se in realtà, come vi dicevo, sono almeno due o tre anni che è in lista. Un altro cofanetto questa volta contiene soltanto quattro volumi, Oltre le onde. Altro titolo che mi incuriosisce tantissimo, di cui avevo letto una piccola preview ai tempi, quando uscì il primo volume per J-pop, mi aveva colpito tanto. Si tratta di una miniserie appunto di quattro volumi che tratta anche tematiche legate al mondo queer, LGBTQ+. Non si tratta di un boys love e mi incuriosiva proprio per questo, ne ho sentito parlare benissimo, quindi sarei curiosa di leggerlo. Devo dire che mi piacerebbero tanto anche le edizioni Mina Lima che sono usciti per l'ippocampo dei grandi classici, in particolare Il Giardino Segreto, Il Libro della Giungla, Il Mago di Oz, La Bella e la Bestia, La Sirenetta, eccetera. Uno! Ma a me ne basterebbe intanto uno, però sarebbe un sogno pian piano quando ne avrò la possibilità di iniziare a collezionarli. Altro libro dei sogni non è un romanzo, ma il libro del grande panettiere, anche del grande pasticcere, credo che sia questo il titolo giusto, non vorrei sbagliare. Poco tempo fa vi avevo fatto vedere in uno dei vlog che ho preso un libro dedicato alla pasticceria viennese, quindi ai croissants, ai panno cioccolà, eccetera. E di questa stessa linea dell'ippocampo hanno diversi libri in realtà dedicati appunto alla pasticceria in generale, soprattutto sulle torte, ma anche alla panetteria. Io ho già un libro dedicato al pane, però mi piacerebbe più varietà, più opzioni, diciamo. Mi piacerebbe fare di più il pane fatto in casa, a volte faccio degli esperimenti. Per conto mio però mi piacerebbe acquisire di più la tecnica. E quindi siccome mi è piaciuto molto come è fatto il libro che ho comprato, ed è la stessa linea, esiste una variante per il pane, sarebbe veramente molto molto bello ricevere questo libro qua. In realtà ho diversi libri di cucina in wishlist, anche il nuovo di cucina botanica sembra veramente ben fatto. Ho dato una sbirciatina, anche le foto mi sembrano molto molto belle, e vedo una sorta di qualità in più rispetto al precedente libro, che comunque a me era piaciuto molto. È uscito anche un nuovo libro di Xaba, che penso sia dedicato proprio alla pasticceria, The Modern Bakery. L'anno scorso era uscito The Modern Cook, che ho regalato assieme a mia sorella e a mia mamma. Quindi quest'anno non possiamo regalarle di nuovo un altro libro di Xaba, però ecco, io sarei curiosa invece di riceverlo. Per quanto riguarda invece il trucco, mi piacerebbe moltissimo ricevere il primer di Lancome, Seal XL, non mi ricordo il nome esatto, ma è un primer che io in realtà ho comprato e ricomprato diverse volte negli anni, che non so per quale motivo hanno aumentato il prezzo. Credo che adesso costi tipo 36 euro o qualcosa del genere. Rip, il mio povero cuoricino, io di solito lo compravo sempre quando scontavano almeno al 20 o 30% i prodotti Lancome. Fatto sta che secondo me è un ottimo primer per le ciglia, non soltanto dà un effetto più drammatico, sembrano più lunghe, più belle le ciglia almeno su di me, e noto anche che le rinforza. Infatti ho scoperto soltanto dopo averlo acquistato diverse volte che all'interno dovrebbe avere proprio una formula che non va soltanto appunto a dare l'effetto di ciglia più lunghe, più folte, ma nel tempo dovrebbe rinforzare e rendere più belle appunto le ciglia. Come proprio mascara mascara mi piacerebbe un sacco ricevere il Vicious di Nabla che io ho già provato, sapete a me era piaciuto tantissimo perché fa un effetto che a me piace molto sulle mie ciglia e per Natale hanno rifatto il pack da nero a oro con gli occhi non rossi ma di diamante. Non veri ovviamente, però trovo che sia veramente molto bello il pack natalizio, è sempre molto too much, però mi piacerebbe veramente un sacco, è sempre di Nabla, è uscita una nuova palettina di glitter. Io tutte le volte che indosso i glitter di Nabla ricevo un sacco di richieste che ombretto sta indossando, è bellissimo, anche oggi l'ho messo, non so quanto si possa vedere da questa distanza, il fatto sta che io sono follemente innamorata dei loro glitter, io ho la Miami Lights e quella che è uscita adesso per Natale trovo che sia il giusto mix fra quella che ho io e l'altra che era uscita, che è la Ruby se non sbaglio, che aveva dei colori che a me sembravano tutti molto simili fra di loro sul rosso-rosa, questo invece ha un po' d'oro, un po' di marrone, rosso, bianco-freddo, adoro. Mi piacerebbe poi tantissimo un nuovo piumino, una quindi giacca nera, io ho un piumino da diversi anni che avevo preso da Zara, che ai tempi mi piaceva da morire, ma anche fino all'anno scorso comunque lo mettevo sempre, forse perché era l'unico piumino un po' pesante che avevo, non lo so, è di color Senape, un colore che secondo me non mi sta particolarmente bene, ma me ne sono forse resa conto adesso, cioè io adesso indossandolo non mi sento, non mi piace come mi sta addosso, un po' perché mi fa proprio l'effetto homino Michelin, e un po' perché il colore non mi piace. L'ho usato per tantissimi anni, è quindi anche molto usurato, d'altronde quando usi una cosa chiaramente si consuma, si rovina, eccetera, anche se tengo sempre molto da conto le cose che ho, perché preferirei che mi durassero il più possibile. Il fatto sta che è ora di cambiarlo assolutamente, quindi mi piacerebbe un piumino magari neutro, quindi nero, che posso sfruttare in diverse occasioni, e mi sono innamorata in particolare del piumino di Oceans Apart, che è uscito, l'ho visto su diverse influencer che seguo, e a loro cade a pennello, è bellissimo, anche nella versione bianca mi piace tanto, però penso che forse lo sfrutterai meno rispetto al classico nero, quindi sì, meglio sognare in grande quando si fa la lista desideri. Sempre connesso un po' all'abbigliamento, anche se in realtà è un accessorio, è uscito un nuovo anello Daniel Wellington meraviglioso, che si chiama, se non sbaglio, Elevation, e sembra quasi un mix di tre anelli diversi, perché ha proprio quasi tipo tre fasce diverse, anche questo l'ho visto su alcuni influencer che seguo, ed è bellissimo, anche da solo, sulla mano. Io ultimamente sto portando diversi anelli, mi piace un po' giocare a volte, visto che non porto bracciali o altri gioielli, diciamo, appariscenti, secondo me quello anche da solo sulla mano fa una figura bellissima, nella versione oro-rosa. E a proposito di gioielli, adesso che ho una mia piccola, piccola collezione, mi servirebbe un portagioielli vero e proprio, io in questo momento tengo tutto nelle varie scatoline, con piccoli divisori, ma mi rendo conto che è poco pratico. E poi, non so se ve l'ho mai raccontato, Taki e kleptomane. Io ho un piccolo piattino sul comodino, dove appoggio ad esempio gli orecchini, gli anelli, quando vado a dormire, sì, insomma, mi accorgo che vado a letto e ho ancora i gioielli addosso, per non stare a rimetterli a posto come si deve, li lascio momentaneamente sul comodino, in questo piattino. E a volte Taki salta sul comodino e mi ruba i gioielli, soprattutto gli anelli, tant'è che mi ha preso un anello che mi aveva regalato mia sorella e che non riesco più a trovare in casa. Non l'ha mangiato, di questo sono sicura. Quindi non so dove potrebbe essere andato a finire e mi dispiace un sacco, motivo per cui ho bisogno di un portagioie, come si deve, per organizzare soprattutto le collane che trovo più difficile da sistemare rispetto ad esempio agli anelli o gli orecchini che nelle scatoline che ho vanno più che bene. Questa era quindi la mia lista desideri, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi rivedete un po', se ci sono delle cose che anche voi vorreste ricevere, indipendentemente dalla mia lista, insomma. Fatemi sapere almeno tre cose che vorreste ricevere quest'anno, la vostra mini lista dei desideri. Io spero di avervi tenuto a compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!